Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, bentornati in questo nuovo video del vostro canale YouTube preferito. Scusate il ritardo, mi ho avuto qualche problema, ma non poteva mancare la recensione della puntata numero 6 di Grandizer U. Una puntata per la verità dove troviamo finalmente una battaglia. È una battaglia che sembra un po' quella tra il maestro di spade e Guybrush Trappwood durante The Secret Monkey Island, perché sono tante parole e pochi colpi. Possiamo notare, notiamo, un Grandizer per la prima volta messo un po' in difficoltà, ma in realtà è chiara l'intenzione del buon Duke Fleet, del re di vivo Actalus, di non volere assolutamente far del mare alla sua amica Teronna. Sì, perché questa puntata è incentrata principalmente sull'arrivo delle due principesse. Teronna Acquavega, che è anche un cavaliere Starker, o una cavaliera, ditemi voi come si dice perché su queste cose sono un po' confuso, e la bellissima Rubina, ex fidanzata di Duke Fleet, che lui, fino all'arrivo di Naida, credeva morta. Quindi questa puntata si incentra più che altro sulla fiducia, sul fatto che Duke Fleet e Teronna iniziano una scaramuccia nella quale lei è straconvinta che lui sia non solo il distruttore di Fleet, non solo l'assassino dei suoi genitori e il tentato omicida della sorella, ma anche l'assassino di Naida. Perché questo le è stato detto, questo è il messaggio che le è arrivato dopo il suicidio di Naida, che salva di fatto la base, e Duke Fleet, che non poteva combattere perché lei stessa l'aveva ferito. Ecco, mi soffermerei su alcuni punti fondamentali di quest'opera. Perché? Perché? Di questa puntata, scusate, perché? Perché ci sono tutta una serie di cose da analizzare. A parte la parte di trama, a parte la parte meca, scusate il gioco di parole, che è veramente uno spettacolo. Ragazzi, la parte meca è salita di qualità veramente a livello difficile da immaginare, insomma, all'inizio di questa serie, per le cose che abbiamo visto all'inizio di questa serie. E la parte principale è tutta incentrata sul fatto che Duke vuole cercare di farsi credere dai suoi vecchi amici. Cioè vuole far capire che è stato casato a fare quello che ha fatto e non lui, e soprattutto che lui non voleva uccidere la ragazza che amava, appunto, Rubina. Ma mentre in un certo modo Teron gli ha quasi creduto, succede il patatrack. Perché un intervento esterno, che non vi spoilererò perché dovreste guardare la puntata, bloccherà, impedirà questa riconciliazione che sembrava imminente tra Teron e Duke Fleet. Da quello che vediamo in questa puntata è molto chiaro che Teron non è solo una cara amica di Duke Fleet, ma che è, avete presente, quando un principe deve scegliere due principesse, ne sceglie una ma l'altra era ugualmente innamorata di lui. Ecco, questa è l'impressione che ho avuto io durante la visione di questa puntata. E soprattutto, chiaramente, si vede l'enorme differenza tra quelle che sono le figlie di Vega, il generale e i responsabili tattico dell'esercito, di cui Gandalf e i Dargos sono sottoposti, che non vogliono fare un genocidio. Allora non interessa distruggere la Terra. L'unica cosa che vogliono è riprendersi il Grandizer. Grandizer che in questa puntata dimostra chiaramente di essere in sintonia col suo pilota, e lo dice anche durante una scena, e dimostra anche che quando non c'è volontà, non c'è concentrazione, non c'è forza nell'imprimere una certa energia al robot, una certa energia, scusatemi, al pilota, il robot non la sente e non la produce. E in questo modo, in questa sesta puntata, è la prima volta che vediamo un Grandizer quasi debole, quasi alla mercè dell'avversario. Non dovrebbe essere così per tutto quello che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Un altro spunto interessante, oltre all'intervento esterno che vi farà capire delle cose, è anche che Yumi e Procton iniziano a studiare la composizione interna del Grandizer, che però è impossibile da capire. Nel senso che gli strumenti terrestri, durante l'analisi, arrivano a un certo punto e poi sono costretti immancabilmente a fermarsi. Duke Fleet spiega a Yumi, dice, professore, quello che sappiamo di Grandizer è quello che le sto dicendo, ma per il resto è un grande mistero. Non sappiamo chi l'ha costruito, non sappiamo bene come funzioni. L'unica cosa che si capisce è che ha un cervello, diciamo, a gravitoni. L'energia principale è un cervello a gravitoni. E ci fanno capire Yumi e Procton che comunque è un uso avanzato di qualcosa che loro già conoscono. Cioè è un uso avanzato dell'energia fotonica. E sì, amici miei, questa è una chiave di lettura molto interessante. Grandizer e Mazinga Z con tecnologie lontane tanto tempo, ma in realtà hanno la stessa fonte di energia. Questa è una cosa importantissima, fondamentale, perché a un certo punto Yumi dice grazie Duke ci hai detto abbastanza. E lui risponde la Terra deve fare un passo avanti per essere pronta all'imminente invasione di Vega. Come dire, vi regalo la mia tecnologia. Quindi la cosa che si è capita è che voi avete capito e che il mio amico Zaccurafo sarà contento di sapere e che potete vedere anche sulla mia maglia che il vecchio caro ex-rottame Mazinga Z tornerà in pompa magna con una nuova fonte di energia, con una nuova lega e con una nuova forza combattiva per spaccare il culo ai mostri di Vega. Ok? E questo ne sono quasi certo. Rimane una mia opinione. Rimane una mia opinione. Però, se i pezzi del puzzle riusciamo a metterli tutti vicini in un certo modo, credo che sia abbastanza chiara questa cosa. Erano vari puntati che ne parlavamo. Bene amici, anche l'analisi del character design dell'animazione è migliorata tantissimo. proprio le scene appaiono più fluide, si muovono meglio, non ci sono tutte quelle immagini statiche che abbiamo visto a inizio serie. Insomma, come tradizione per l'animazione giapponese si migliora man mano che si va avanti. 13 puntate. Questo si prevede. Non è detto che sia così, ma credo, credo che siano giuste per raccontare questa storia, quella che conosciamo noi, insomma, fino alla sconfitta di Vega. Staremo a vedere, magari vengo smentito e si fanno due stagioni e sarò contentissimo, ma Manga Production non è tipa da fare più stagioni. Le opere che ha realizzato fino ad oggi sono quasi tutte o se non sono tutte con un solo, con una sola stagione che inizia e finisce con un X numero di puntate per stabilito. Staremo a vedere, intanto la qualità sale puntata dopo puntata vertiginosamente e questo non ci può che far sperare bene per il futuro. Amici, se questo video vi è piaciuto giratelo ai vostri amici, iscrivetevi al canale, lasciatevi un pollice alto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Un grazie ai miei fedelissimi abbonati che sono sempre con me e mi aiutano a portare avanti la baracca. Io vi mando un grande abbraccio e noi ci vediamo alla recensione della prossima settimana. Mazingo a tutti! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.